È partito? Wow, allora benvenuti a Radio Design, io sono Elisabetta Arietti o Arietti o Emietti, quello che volete, e qua con me c'è Nicola Palumbo, il grande pelato del mondo che noi tutti conosciamo. Sì, ho anche un brutto naso, però quella è un'altra puntata. Esatto, esatto, perché dice così? Perché vogliamo lanciare un nuovo format, si dice così? In un nuovo format, che si chiama appunto La Legge di Muffin. La Legge di Muffin, e andiamo a parlare un po' delle sfighe quotidiane, quindi avremo degli ospiti, insomma. Esatto, ci sono dei grandi programmi, ecco, insomma. E vabbè, vai anche tu a spiegare un po' che cos'è, perché è una cosa un po' improvvisata in realtà. Perché la legge di Muffin e non di Marfin? Perché il Muffin... Di Marfit. Sì, perché il Muffin rappresenta la quotidianità, il risveglio. Uno mangia il Muffin la mattina, poi ci spiegherai pure il tuo sogno del start-up per la colazione. E quando uno parte la mattina con un Muffin, parte già con un sacco di problemi mentali. Esatto, esatto. Noi andiamo a parlare appunto dei problemi della quotidianità. Per esempio, la gente che non vuole ingrassare i Muffin la mattina non li mangia. E quindi avremo un ospite che avrà questo tipo di... No, beh, nel caso non glielo diremo, non lo presenteremo così, però... Posso venire anche questo punto? Ma le ho tutte. Però non hai... che cos'è che non hai? I capelli. Ma è quello, no? È l'allergia... Al nickel. Al nickel, al nickel. Oggi andremo appunto a parlare di questo dramma, che è un dramma che affligge persone come me. Ah, infatti stavo dicendo, abbiamo un ospite, sì, sei tu. Sono io oggi, l'ospite di oggi. Sono io che sono appunto allergica al nickel. E voi direte, ah, quindi ti vengono gli sfoghi quando vai a mettere qualcosa che non è propriamente consono, no? Eh, spieghiamo il dramma, spieghiamo il dramma, va. Allora, che tutti dicono, ah sì, anch'io sono allergico al nickel, ma in realtà è una menzogna. Perché poi ci sono diversi gradi di allergia. E ci sono molti stronzi, diciamocela tutta. Eh, questo è un angolo molto free su linguaggio. Perché sono allergici solo appunto in parte, ecco. Io sono allergica al punto che devo anche stare attenta agli alimenti che introduco nel mio corpo. Esatto. Ecco. E quindi, insomma, ho scoperto di esserlo, di essere allergica al nickel ed è partito il mio dramma più che quotidiano, il mio dramma eterno. Partendo dal muffin la mattina. Esatto, il muffin che non deve essere assolutamente al cioccolato. Perché noi allergici al nickel e il cioccolato ce lo dobbiamo scordare. Il cioccolato, come tantissimi altri piaceri della vita. Perché il buon Dio ha deciso di non farmi né magra né bella eppure allergica al nickel. Quindi, in sostanza, è partito pure questo dramma nella mia vita che proprio ci voleva alla fine. E quindi, eh, allora, ho iniziato a togliere diverse cose dalla mia dieta. In realtà tu non hai nessun problema, però il buon Dio ti ha dato un sacco di paranoia, possiamo dire anche questo. Ecco, ecco, vabbè. E quindi, dalla mia dieta, che già era povera perché volevo fare un po' la fit healthy girl. Aspetta, volevo farti una domanda, però. Vai. Cioè, quando ti svegli, quanto tempo realizzi per ricordarti che sei allergica al nickel? Ma basta arrivare alla colazione, perché in teoria poi le persone allergiche al nickel non possono nemmeno mangiare la pasta sfoglia, quindi quella dei cornetti. Buona, l'ho mangiata oggi, giusto per dirtelo. Adio, tendo comunque un po' a soprassedere, si può dire soprassedere. Si può dire, si può dire. Ecco, e quindi evito, appunto, però, se posso, la pasta sfoglia, insieme a tantissimi altri alimenti, ragazzi. E questo è un grandissimo dramma che se qualcuno un giorno mi ascolterà, mi vedrà, appunto, in questo schermo, vorrei che condividesse con me il suo dramma, perché è davvero brutto. Quindi, se una persona vi dice che è allergica al nickel, voi non dite anch'io perché mi viene lo sfogo, ma dite mi dispiace, perché è un vero dramma. Ah, no, io dico cazzi poi. Sti cazzi, esatto, tendenzialmente si dice sti cazzi. E poi un'altra cosa, ecco, perché una persona allergica al nickel… Tipo, quanto è buona la pizza, per esempio. Esatto, io non posso mangiare il pomodoro, quindi la pizza col pomodoro me la posso scordare. Tendenzialmente non potrei nemmeno bere alcol, quindi nemmeno per dimenticare il dramma non potrei nemmeno andare a colmare questa grandissima tristezza. E poi, questo è più per le ragazze, però, ragazze. Attenzione. Ragazze, i trucchi, cioè se voi un giorno… No, mi vuoi togliere i trucchi. I trucchi, un giorno se voi scoprirete di essere allergica al nickel, vi dico mi dispiace, io sono una vostra sorella e vi sono vicina, perché quando scopri di essere allergica al nickel, non vai più da Sephora, ma inizia a comprare i trucchi in farmacia, in un piccolo angolo angusto della farmacia, vicino alla cassa, che la farmacista ti guarda e attende che tu scelga. Tra due colori, poi, perché c'è il nero e il marrone, se vuoi tipo l'ombretto blu, tendenzialmente non ce l'hanno, se ce l'hanno, facca, perché… Ma io infatti uso sempre l'ombretto blu. Blu, e allora se sei allergico al nickel… Valorizza i miei occhi. Eh sì, sì, il capello soprattutto. E quindi, insomma, se scopri di essere allergico al nickel, devi andare a comprare i trucchi in farmacia. Puoi scegliere solo tra un paio di brand con della grafica davvero discutibile, anche questo per me… Ricordiamolo che questo è radio design, quindi un po' di design lo stiamo dicendo. Esatto, esatto. La grafica dei prodotti nickel free è davvero imbarazzante, imbarazzante. Quindi, per me è anche brutto, perché tendenzialmente compravo le cose solo per il packaging. E ho dovuto smettere. È stato molto, molto brutto. E insomma, anche ogni tipo di trucco mi sono un po' dovuta adattare. Come ho dovuto cambiare tutti i prodotti per la casa e tutti i prodotti per il corpo. Per i capelli, per i capelli. Per i capelli pure. C'è solo uno shampoo. Schifo, i capelli. C'è solo uno shampoo. Ma tendenzialmente il farmacista mi ha detto, guarda, per te va bene questo. E io mi sono fidata. Quindi c'è solo quello. Sì, anche andare dal parrucchiere devi chiedere appunto se usa prodotti nickel free. Tendenzialmente ti dicono di no. E se poi entri in una profumeria e dici, scusate, avete dei prodotti nickel free? Quella ti guarda come se fossi una poveraccia e ti dice, no, guarda, non li vendiamo. E tu esci. Tristissimo. Ragazzi, è una bruttissima... E tra l'altro, a proposito che siamo a Radio Design, ho scoperto anche che anche il buon Pampanelli è allergico al nickel. Se lo vogliamo. Oh, davvero? Sì, però lui è uno di quei fortunati che in realtà ha solo qualche sfogo, se ho capito bene. Per esempio, tu potresti mangiare una barra di metallo? Come tutti sono abituati a fare. No, quella no. Devo... La bigiotteria. La bigiotteria non posso permettermela. Ecco, ma quello mi rende un po' signora. Mi piace, perché posso solo indossare cose d'oro. Cose che costano molto. Mi rende molto signora, i miei, insomma... Questi orecchini sono... Sono d'oro, sono d'oro, sì, ho verificato. Questo messaggio a tutti quei ladri che sono nella zona. Ecco, questi orecchini sono d'oro e i miei capelli sono nickel free a questo punto. Sono d'oro. No, non ho questa fortuna. Insomma, quando scopri di essere una persona che è allergica al nickel, insomma, diventa un dramma quotidiano. Ma e tu, come da un punto di vista psicologico, la cosa... cioè, come l'hai accettata? Ecco, allora, Nicola proponeva anche poi questo spezzone del programma... Soluzione. In cui si andava, appunto, a proporre una soluzione che io, però, purtroppo per questo problema non l'ho ancora trovato, per cui non lo so. So che esiste un vaccino, ragazzi, amici, allergici, però non l'ho ancora provato, non l'ho ancora testato, per cui non lo so. Sono solo una persona triste che se mangia il pomodoro si arrossa tutta, ovunque. Ma nella frutta cosa puoi mangiare? Ma nella frutta già di più. Nella verdura posso mangiare tipo tre o quattro cose, tra le quali... Quindi fai la cacca. Ma questa parte si dovrebbe decidere di... C'è il design, c'è del design. No, ascolta, io cambierei, andrei a soprassederei anche in questo caso. No, perché mangi un sacco di fibre, se ho capito bene. No, sono proprio contemplate quelle, poco, perché... Come neanche le fibre. Eh no, se le agico ai cereali, a qualsiasi tipo di cosa che può nascere dal terreno, in sostanza... Quindi vai incontro alla costipazione, un malato di nickel. Ma, ascolta, io andrei oltre... Anche perché già questo programma potrebbe cadere nell'orrid, non andrei proprio a buttarcelo di proposito. Ecco. No, nel senso, per esempio, sempre parlando di estetica, no? Ci sono dei pantaloni che hanno il nickel, che ne so. Beh, i bottoni dei pantaloni, assolutamente. Pure quello. Caspita, sì, i bottoni dei pantaloni, le zip, piuttosto che, appunto, una cosa che stavo per dire, che io posso mangi... Cioè, non posso mangiare nulla, però il buon Dio ha deciso che le melanzane io potevo mangiarle. E mi ha fatto questo grandissimo regalo, che è proprio una cosa che non tollero. E tra le quattro verdure che posso mangiare, una sono, appunto, le melanzane. Qual è la cosa che ho detto? Ma, cazzo, pure qui c'è il nickel? Tipo la cosa più scandalosa. Quella che ho detto io... Che ti sei stupita per la cosa che ti sembrava impossibile, anche qua. Ma, nel senso... Come ho capito? No, perché tendenzialmente, cioè, più le... Nel tuo sangue c'è il nickel. No, sono più le volte in cui mi sorprendo, dico, caspita, qua non c'è che penso. Perché tendenzialmente, se no, c'è ovunque. E mi dispiace, perché, appunto, io da piccola, per esempio, mangiavo solo pomodori. Probabilmente c'è stato un accumulo di nickel. Pomodori e cioccolato mangiavo. È stata una punizione divina, potremmo dire. Ma, guarda, una delle prime, ma, beh, temo non sarà l'ultima. Però, insomma, ecco, amici, a casa, se siete allergici al nickel, vi capisco, insomma. E quindi diamo... Ah, tu non l'hai superata, però diamo cinque suggerimenti utili per sopravvivere al nickel. Ok, allora... Fatevi una ragione, uno. Sì, due, due, importante il due, che ci sono anch'io un po' in questa cosa. Trovate speranza nel fatto che esiste questo vaccino effettivo, però non andate da un allergologo a chiederlo, perché probabilmente vi cadrebbero tutti i sogni che vi siete costruiti nel mentre. Quindi io so che esiste, però ho paura di andare, perché magari mi dice no, guarda, non funziona nulla. Quindi io so che c'è questo eventuale vaccino, ecco. C'è una speranza, c'è una speranza. Sì, 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 poi non so se la praticherò, però c'è. Già qui, tutti quelli che votano 5 stelle non possono, perché sono contro i vaccini. Bello parlare di politica. No, era un piccolo innesto per ricordare, insomma, gente problematica. Ecco, poi, il punto tre è trovare persone allergiche al nickel, tanto quanto te, o di più, non di meno, perché se no, ecco, ecco. Quindi praticamente tutta la mia famiglia allergica al nickel e questo mi commuove quasi. Sì, veramente. Mia madre, ma poi lo sono tutti più di me, ma mangiano tutti come dei porci. E sei tu stressata, allora? Eh, temo di sì. Quindi lontano dallo stress, farsene una ragione, trovare una spalla amica in chi è problematico come te. Sì, trovare speranza in questo vaccino e il punto 5 direi che sfondarsi di quel determinato alimento che non puoi mangiare almeno una volta ogni tanto, perché se no muori praticamente, però... E il tuo qual è? Il pomodoro? Magni i pomodori crudi? No, no, il pomodoro no, ma tendenzialmente, ecco, la birra non potrei berla, ma ne bevo un sacco, comunque, perché non mi interessa. E poi un'altra cosa che ho dimenticato. Come? No, pensaci. No, stavo parlando. No, gli altri ci pensi ti volevo chiedere. Ah no, un'altra cosa interessante di tutto ciò è che tendenzialmente c'è un margine di dimagrimento, forse, quando scopri di essere allergico, perché molte cose non le puoi mangiare. Poi tendenzialmente puoi mangiare solo latticini, quindi tendi magari un po' a... Però se ci fa attenzione la gente ti trova anche dimagrito, il che non è male. Latticini che creano problemi poi... Ma guarda, quello si può soprassedire di nuovo. Avremo poi un ospite che ne parlerà magari volentieri, ecco, troveremo un ospite. Chi ha problemi intestinali? Io penso che starò zitta per quella puntata, inviterò la Mari, inviterò la Mari a parlare. La Mari ha problemi intestinali, pure Pampanelli, così può parlare del nickel. Ah no, no, parlo del nickel, solo del nickel. Del nickel, ok, ok. Va bene, l'ultima domanda per chiudere era, ci sono delle community online dove vi date suggerimenti, drammi? Un sacco di emoji dove piangete insieme. Ma ho trovato un gruppo di supporto, però... Come si chiama? Nickel, mon amour. Nickel, noi allergiche al nickel, amiche di nickel, però... Tutte donne amiche di nickel. Ma sì, una cosa, però appunto mi metteva troppa ansia perché era la dieta nickel free. Ho trovato questo prodotto al supermercato che... Quindi mi metteva troppa ansia e ho detto, anche sti cazzi. Ma la carta igienica è al nickel? Ma probabilmente una piccola percentuale ce l'ha perché... Pure la carta c'è il nickel? Eh sì, perché nasce dalla terra, la terra è ricca di nickel, quindi... Il dicione. Tendenzialmente penso che... Ma però avrà una minima quantità. Ma l'acqua al nickel? È certo. Pure l'acqua? Ma tendenzialmente penso di sì perché passa nelle tubature che penso che non siano nickel tested per cui penso che... Nickel zincato o cose del genere. Ecco, quindi tendenzialmente... Dentifricio al nickel? Eh, caspita! Ma è tutto, tutto, tutto quello che puoi immaginare al nickel. Bello, è proprio... Una bella vita. È interessante. Molto bello. Alla legge di Muffin qua sono persone molto felici. La prossima volta parleremo di pelati, abbiamo detto. La prossima volta un ospite, non sono io perché... D'eccezione. Io mi taglio i capelli corti, semplicemente. Avrà tutto qua. No, anche lateralmente, vedi, sono... Chi ci sta guardando che lo salutiamo? Anna Maria, Paolo, che era qui prima, e poi Bono, lo so. Vi salutiamo. È stato un sogno. Molto, quindi prossima volta pelati. Poi, ecco, appunto, stavamo un po' riflettendo su chi altro potremmo invitare. Abbiamo pensato, appunto... Problemi intestinali. Beh, quello, magari, appunto, io la faccio un po' in ombra, l'ho puntata un po' nell'angolo. Poi ci sarà, magari, chi ha problemi con il suo naso. Anche qui ci posso rimanere. Esatto. Poi chi ha altro calvizie, naso. Sovrappesi, obesi. Anche qui posso rimanere. Problemi di statura, magari. Anche qui, perché non sono neanche uno e uno. Ciao, Ale! Ciao, Alessandro. Io, Alessandro, che problemi c'hai? Ecco, dici che ti invitiamo come ospite. Ecco, tu hai dei problemi. Hai troppi capelli, questo è un problema, secondo me. Ma guarda, tendenzialmente direi di no. Pensavo di sì. Va bene, diccelo. Mitici. Ha problemi di miticezza. Ha problemi di miticezza. Sarai nostro ospite, Ale. Troveremo un tuo problema da esporre in live. Vi aspettiamo con un sacco di problemi. Non so, sto pensando a altre problematiche enormi. L'aerofagia, l'abbiamo detto. Ci tengo molto. Eh, ma magari Ale vorrebbe venire a parlare. Ale, tu i problemi di aerofagia potrebbero essere. No, no. So che vi trovate un po' su questi argomenti un po'. E vabbè, poi troveremo appunto... Le ossessioni. Sulle ossessioni, sulle paure, insomma. Diciamo che è un programma un po' da cazzoni, perché non abbiamo voglia. Sborzare un po' i toni. Non abbiamo voglia, ecco. Quindi, così, per passare il tempo. Tipo io ho l'ossessione sulle power bank. Io vorrei... Una casa piena di power bank. Non so se ci farei una puntata, però. Devo dire solo tu. L'ossessione da power bank. Anche sulla rete. Peso, Clara De Canino. Attenzione, chi è? Clara. Chi sei Clara? Vieni, parlaci dei tuoi problemi. No, forse sta dicendo pesante il nickel. Sta citando... Vedo che ero un sacco di interazioni. Non c'è più parole di cazzate. Funziona. Vabbè, uno cerca di fare tematiche fighe. Facebook, algoritmi. Poi basta parlare di problemi. Ma poi dovremmo anche magari appunto dare dei consigli pratici alla fine in maniera un po' più psicologica. Eh, io darò dei suggerimenti su come superare la caldizia. La caldizia, eh? Certo. Andare in Turchia, mi hanno detto che costa poco. Il trapianto, queste cose. Ma insomma, diciamo che troveremo un sacco di persone con dei problemi e ne parleremo tutti assieme trovando dei nuovi amici. Esatto. Che hanno i nostri stessi problemi. Ragazzi... Tipo, Paolo si mette il profumo. Secondo me è un problema. Eh, no. No, sei tu la voce fuori dal coro in questo caso. Credo che sia un problema evidente, comunque. Quindi ragazzi e ragazzi, quella che ha oggi problemi sono io. Se volete condividere con me la vostra allergia al nickel, sapete chi contattare, ecco. Scrivete un commento e alla prossima. Attenzione, ottimo format, materie umane, filosofiche e materie tecniche. Non ho capito niente, però vabbè. Lo metto in evidenza. Poi ci spiegherà, Sandra, che cazzo vuol dire. C'hai regalato un'emozione, Ale. Ah, cioè materie umanistiche. Ah, nel senso, forse... Beh, in realtà, non è male, eh. Non è male. Però, appunto, Ale, comunque verrai qua, insomma. Porteremo qua un ingegnere. Ti riferisci a questo, probabilmente. Cioè, una lotta tra... Sarà un ciao Darwin radioponico questo, ho capito bene. Eh, sarebbe simpatico. I culoni, i culoni... Eh. Anche questo. Bello. Porteremo qualcuno con un culo. Quello penso che sia... Che ha problemi. Un regalo che fanno tutti. Mi fermo. Mi fermo, perché sto andando a mani... Guarda che sacco di interazioni. Bene, sono contenta, sono contenta. Allora, ragazzi, è stato un piacere. Eh, vabbè, è stato un piacere. Ciao da me, il mio corpo pieno di nickel. Buon nickel a tutti a questo punto. Ciao, è stato un bel passo. Ciao, buon primo maggio. Ah, è vero, buon primo maggio. C'è questa cosa che fanno le persone. Ma dai, ma che sarò un po' triste. Però fai un balletto. Ma andrò a mangiare un sacco di pomodori in tuo onore. Grazie, grazie. Ciao.